L'età di Pericle può essere considerata come il primo grande rinascimento della storia dell'umanità. Ma perché viene chiamata proprio età di Pericle? E qual è questa età di Pericle? È quel periodo che intercorre tra la fine delle guerre persiane e l'inizio delle guerre del Piero Porniso quando cioè Atene divenne una potenza dominante e l'uomo che incarnò questo momento dal 480 al 430 circa fu proprio Pericle. A voler schematizzare cronologicamente questo periodo abbiamo queste date 477 da memorizzare ovviamente quando avverrà la costituzione della lega di Deilo o lega delioattica. 471 altra tappa che vede ostracizzato di Mistocle. Il 462 quando Atene manda una spedizione in aiuto di Sparta. 461 in conseguenza di questa spedizione Cimone fu ostracizzato e i Fialto e Pericle iniziano l'attività riformatrice e quando poi gli Fialto verrà assassinato rimarrà da solo ovviamente Pericle. La prima guerra del Peloponneso 457-55. La pace di Caglia tra Atenese e Persiani. 445 la pace trentennale tra Sparta e Atene e infine l'anno della morte di Pericle. Ma vediamo la situazione che si era creata ad Atene e Sparta all'indomani delle guerre persiane. Atene e Sparta indubbiamente furono le vere vincitrici del conflitto anche se non da sole combatterono contro i persiani ma a capo di leghe la delioattica e la peloponnesiaca. Ma per la loro capacità di predominio e per le grandi virtù guerriere dei loro comandanti e dei loro eserciti si può dire che Atene e Sparta furono le vere vincitrici di questo conflitto ma reagirono in maniera diversa. Sparta sfruttò soltanto in parte questa situazione favorevole e confermò invece la sua tendenza a fare una politica estera molto prudente cioè Sparta non amava intervenire negli affari al di fuori del peloponneso per cui tese a ripiegarsi su se stessa a cercare di ristabilire l'ordine interno e soprattutto a ristabilire all'interno della lega peloponnesiaca i regimi oligarchici in quelle città che invece nel frattempo si erano dati dei regimi democratici. Invece Atene anche anch'essa rispondendo alla sua tradizionale tendenza innata tendenza all'espansione fu più dinamica fu pronta a sfruttare il prestigio conquistato appunto nella lotta contro contro i persiani. Per proseguire questa guerra contro i persiani appunto nel 477 venne costituita questa lega di Delo che comprendeva Atene e tutte le poleis ioniche. Il comando, la direzione di questa lega fu affidato da tutte le poleis ad Atene e c'era questo patto comunitario che ogni polis doveva contribuire versando sia delle tasse in denaro, quindi un tributo in denaro, sia navi. Questo tesoro comune, questa cassa comune fu in un primo momento costruito presso il santuario di Apollo appunto nell'isola di Delo, per questo la lega si chiamava così. Il fine di questa lega, cioè la lega era stata costituita per continuare la lotta contro i persiani perché si era fondamentalmente convinti ad Atene che i persiani avrebbero ripreso le armi prima o poi contro la Grecia per cui volevano farsi trovare i pronti. Quindi sulla carta la lega di Leoattica era stata costituita per prepararsi in vista di una futura lotta, guerra ancora contro i persiani. Ma in realtà si trasformò invece in uno strumento che permise ad Atene di esercitare l'egemonia sia sul mare Egeo, quindi una talassocrazia ancora più spiccata, sia su queste stesse poleis, città alleate, che versavano i contributi alla lega. E infatti in ogni città alleata Atene dedusse delle cleruchie, cioè delle colonie militari. In pratica erano queste città, queste colonie, erano abitate da cleruchi, che erano dei cittadini soldati, che avevano il compito di presidiare il territorio, di far sentire cioè la presenza fissa, un po' affiato sul collo di Atene, sulle città alleate. Sparta in un primo momento accetta tacitamente questo primato marittimo di Atene, la sua talassocrazia, anche perché la situazione nel Peloponneso era fortemente instabile, per cui gli spartani non avevano neanche tempo di pensare a frenare l'espansionismo di Atene. Infatti erano anche disposti gli spartiati a concedere campo libero ad Atene nella politica estera, perché avevano necessità proprio di concentrare le energie nel reprimere le rivoluzioni, le rivolte dei Chiloti, dei Messeni, insomma delle città che erano vicine a lei e comunque sotto la sua giurisdizione. A un certo punto però l'egemonia di Atene comincia a scontrarsi con l'opposizione di Sparta. Ad Atene c'era ancora Demistocri, che era il capo del partito democratico, che propone, visto che Sparta si è ripiegata su se stessa, di approfittare delle difficoltà di Sparta e eliminare una volta per sempre la nemica, perché Sparta era stata alleata di Atene soltanto contro i persiani, ma non correva buon sangue tra spartani e atenesi. E quindi che cosa propone di fare al popolo atenese? Appoggiamo gli loti che sono sempre in rivolta contro Sparta, appoggiamo tutte le città peloponnesiache che volevano darsi dei regimi democratici e invece sono costretti da Sparta a scegliere dei regimi unicarchici e capitaniamo in un certo senso questa rivolta contro Sparta e eliminiamo il problema una volta per sempre. Però temi visto che Sparta era del partito democratico, era quindi del partito un po' più aperto, quello che era sostenuto dai ceti emergenti, quindi quelli come i mercanti, artigiani, marinai che avevano più interesse all'espansione sul mare proprio per i loro traffici e quindi per un maggiore interesse introito economico. Non fu però appoggiata questa idea, questa proposta dai conservatori che avevano invece a capo Aristide e Cimone. I conservatori erano sempre stati filospartani perché? Perché i conservatori erano sostanzialmente gli aristocratici e gli aristocratici per loro DNA, per loro natura, sono più per forme oligarchiche di governo e non democratiche per cui privarsero i conservatori e nel 470 fecero ostracizzare Temistocle e fecero anche di più. Invece di fare la guerra a Sparta consolidarono l'alleanza con Sparta. Perché? Perché i conservatori ateniesi in minoranza in Atene trovavano manforte contro tutti i movimenti popolari e democratici del mondo allora conosciuto proprio Sparta che invece appoggiava qualunque forma di governo oligarchica. Ma la rotta politica ad Atene non finì qui. Nel 476 Cimone comandava la flotta ateniese e nel 486 vince sui persiani. Ha già vinto sui persiani. Nella Lega degli Oattica entrano quindi le città dell'Egeo e Cimone ristabilì dei rapporti pacifici con Sparta. Nel 462 cosa succede? Gli spartani stavano cercando di fermare la rivolta degli loti e chiese aiuto ad Atene. Cimone quindi, forte anche dell'appoggio delle città dell'Egeo nella Lega, manda un contingente ateniese. Ma questo contingente si rivelò inutile, cioè non fu di vero aiuto agli spartani, per cui gli spartani lo rimandarono indietro. E questo fu uno smacco per Cimone, tale che nel 461 addirittura fu ostracizzato. I conservatori vennero battuti quindi da Efialte e da Pericle, che guidavano invece il partito progressista, quello democratico. Dopo la morte di Efialte, Pericle, che era il suo braccio destro, assume quindi la guida di Atene nella città. Questa è una definizione che Plutarco ci dà di Pericle. ci dice che ebbe le più grandi qualità che un uomo possa sperare, onestà, ingegno, realtà e bellezza, ma ebbe un unico difetto, un difetto fisico. Cioè la sua testa aveva una forma un po' curiosa, aveva una forma cipolla, in pratica aveva la testa appuntita verso l'alto. E tutti gli scultori perciò lo raffigurarono con l'elmo. Di fatto che se noi andiamo cercando l'iconografia relativa a Pericle, effettivamente è sempre raffigurato con un elmo in testa. Chi era questo Pericle? Pericle era un aristocratico che si convertì alla democrazia. Ebbe una grande intelligenza, ma soprattutto una grande intelligenza politica, quindi una grande abilità politica. Fu stratega per la prima volta nel 460-30 anni e di fatto, perché gli furono affidate altre strategie, altre cariche, altri incarichi nel corso degli anni, governò la vita politica di Atene fino alla morte. Vediamo qualche aspetto in sintesi della politica di Pericle. Per quanto riguarda la politica interna, una volta assunta la guida della città, attua una riforma della Costituzione. Una Costituzione che fu ancora più democratica di quella di di Cristene, tant'è vero che ancora adesso, quando si pensa al padre della democrazia, si pensa a Pericle, della democrazia moderna, si pensa a Pericle e infatti che cosa fa? Innanzitutto riforma l'aeropaco che era dominato dall'aristocrazia, per cui ne ridimensiona il peso politico. introduce l'indennità giornaliera per tutti coloro che volessero svolgere delle funzioni pubbliche. Cioè per la prima volta ad Atene chi fa il magistrato viene pagato, chi fa il funzionario pubblico viene pagato. Prima non era mai stato pagato, proprio per questo alle cariche pubbliche accedevano i ricchi, quelli che cioè non potevano permettersi, potevano anche permettersi di perdere delle giornate, perdere tra virgolette ovviamente, delle giornate a governare la città e non a lavorare. Introducendo la retribuzione delle cariche pubbliche, lui permette anche a chi fa altro nella vita, anche a chi è povero, anche a chi deve lavorare tutti i giorni per poter guadagnare, di ricoprire almeno per una volta nella sua vita una carica pubblica. Per rendere ancora più oggettiva l'elezione, prevede che quasi tutte le magistrature vengono sorteggiate e non elette per decisione degli aristocratici. E poi nel 451 fa approvare anche una legge sulla cittadinanza ancora più restrittiva, cioè questa legge diceva che, stabiliva che per essere cittadini atenesi bisognava essere nati dai genitori entrambi atenesi. Questo che cosa significava? Che bloccava l'accesso al potere a tutti i figli nati da matrimoni visti, quelli che venivano chiamati meteci, che avevano sì i diritti civili, ma non avevano quindi i diritti politici, per cui alle cariche pubbliche potevano accedere soltanto i cittadini atenesi. Per quanto riguarda la politica estera si concentrò sulla lotta contro Sparta perché voleva fermare il primato atenese nella Grecia. Quindi due furono i fronti, uno contro Sparta e un altro contro persiani. Contro i persiani per estendere a tutto il mediterraneo orientale l'atalassocrazia già conquistata nell'Egeo, per cui portò avanti quella che potremmo definire una politica imperialistica. Periche però non fu mai un tiranno, non impose mai le sue idee, le sue posizioni politiche e non cercò neanche di costruire e mantenere il suo potere sull'inganno, sulla violenza. Infatti lui fu sempre regolarmente rieletto e non abusò mai dei poteri che le assemblee dei cittadini avevano assegnati, per cui lui fu sempre ben voluto, soprattutto dalla stragrande maggioranza della popolazione. Ma ci furono anche luce d'ombre in questa democrazia. Infatti la struttura politica di Atene del V secolo, quindi del secolo di Perichele, rappresenta uno degli esempi più radicali di democrazia diretta nel mondo antico. Ma l'uguaglianza tra i cittadini non coinvolgeva tre ampie categorie di individui, cioè stranieri, donne e schiavi. Questi erano esclusi dalla democrazia e stranieri, donne e schiavi conteggiati insieme erano una bella fetta della popolazione di Atene. Quindi democrazia sì, ma, come dire, limitata. Questo creò molto marcontento, molta confusione, molta discordia, per cui dilagarono le denunce anonime, i ricatti, che venivano usati anche come arma politica. Ed ebbero vita facile i sicofanti, cioè quelli che andavano facendo le denunce anche false. Li potremmo considerare gli antenati di quelli che oggi manipolano la macchina del fango, non so se avete mai sentito questa espressione, cioè quelli che infangano la reputazione degli altri pur di attaccarli politicamente e quindi di allontanarli dalla città. Tucidide, che nelle sue storie elogia tanto la democrazia di Pericle, nota che proprio la pecca, la falla in questa democrazia consiste nel poter essere condizionata facilmente dal popolo e dai demagoghi. Ma finché Pericle rimase al governo, questo tipo di democrazia funzionò, gli ingranaggi andarono sempre a punto e Atene prosperò tanto. Infatti la città si ingrandì, si arricchì di monumenti straordinari, l'acropoli, così come ancora adesso ci è restituita dal tempo, fu costruita proprio sotto Pericle, che si circondò di pittori, scultori, poeti, scienziati, filosofi, delle più grandi personalità, dei più grandi letterati che l'arte e il pensiero ateniese conobbe nella sua storia. Per quanto riguarda la politica economica, utilizzò il tesoro comune della lega dell'eoattica per le esigenze anche dei più poveri perché volle evitare che i cittadini più ambienti dovessero pagare più tasse. Grazie allo sviluppo del Pireo, il porto di Atene, Atene divenne un centro internazionale di scambi, arrivavano merci di ogni tipo e da ogni parte del Mediterraneo e in conseguenza a questo fiorirono anche la canteristica navale, l'industria manifatturiera e di conseguenza purtroppo aumentarono anche gli schiavi che fornivano la mano d'opera. Per la politica estera, come ho detto prima, formò due fronti militari, uno contro Sparta che iniziò con il conflitto contro la Beozia. Sparta non riuscì ad impedire il predominio di Atene. Nel 447 i ribani in guerra per sottrarsi dall'influenza atenese chiamano Sparta e nello scontro, lo scontro stava per iniziare ma Periche riuscì a raggiungere un accordo con gli spartani e firmò infatti la pace dei trent'anni con Sparta. Invece sul fronte militare contro i persiani il teatro di guerra fu l'Egitto dove nel 465 Inaro, il re della Lidia che era rivolta contro la Persia, chiede aiuto ad Atene. Però qui la flotta atenese fu sconfitta, ricevette una sonora sconfitta dai persiani, per cui anche qui Periche dovette arrivare subito ad una pace, detta pace di Caglia perché era il nome dell'Atenese che condusse le trattative. Nel 441 Periche dovette far fronte alla rivolta che l'isola di Samo fece per ribellarsi della gestione che Periche e Atene stavano facendo del tesoro comune della lega dell'Eoattica, ma questa rivolta fu soffocata nel sangue in pratica furono uccisi quasi tutti gli abitanti dell'isola. Sul fronte interno poi Periche non se la passava tanto bene, infatti veniva continuamente contestato dal conservatore anche perché le riforme che lui aveva fatto accontentavano per forza qualcuna e scontentavano un altro. Solo che a un certo punto fu promossa una vera e propria campagna denigratoria contro la sua persona, quindi coinvolse proprio la sfera privata, tant'è vero che la sua compagna Spasia fu processata per impietà e soltanto un abile discorso di Periche riuscì a farle evitare la condanna a morte. Ma non fu così invece facile salvarsi per tanti intellettuali amici di Periche che dovessero abbandonare la città.